Buonasera a tutti e ben ritrovati alla quinta puntata di Narrativi in italiano. Benvenuto e ben ritrovato a Franco Fracassi, grazie di essere qui con noi, come sapete Franco Fracassi è un giornalista e un regista di documentari e questa sera ci parlerà di alcuni libri e di due documentari che ha realizzato sul tema della guerra in Afghanistan. Allora, vogliamo intanto dire questo, che noi di Narrativi amiamo raccontare, vedere lo scarto che c'è tra le narrazioni ufficiali e le motivazioni reali. Quindi con te vorremmo fare un po' questo viaggio storico in questi vent'anni di conflitto afgano che ha portato alla morte di 240 mila persone di cui 71 mila erano civili afghani, una guerra lunghissima che è costata 100 miliardi di dollari. e potremmo cominciare vedendo questa clip estratta dalla dichiarazione di Bush di guerra all'Afghanistan. quindi siamo nel 2001 a ottobre, a poche settimane dall'attentato alle torri e poi la commentiamo insieme. clienti. And. Good afternoon. On my orders the United States military has begun strikes against al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations. e per attaccare la capacità militare del regime talibano. In questa clip George W. Bush spiega che cosa vuole fare in Afghanistan, il motivo per cui attacca l'Afghanistan. E sarebbe che secondo lui i talebani ospitano Al Qaeda e i campi dove i terroristi si addestrano per colpire gli Stati Uniti. Possiamo dire che questa è una prima bugia, nel senso che, come tu spieghi nei tuoi lavori, esisteva già un piano di invasione dell'Afghanistan precedente, ovviamente, all'11 settembre. Sì, in realtà gli Stati Uniti volevano invadere l'Afghanistan a prescindere all'11 settembre. Il piano era pronto ed è una cosa ufficiale perché sono stati pubblicati i documenti del piano, quindi non è una cosa obiettabile. Era pronto già da un anno, quindi se era pronto già da un anno, andando a ritroso, perché ovviamente deve essere elaborato e poi deve essere anche pensato, cioè a qualcuno deve essere venuto in mente, insomma, almeno due o tre anni prima, almeno dal 98, se non anche da prima, gli Stati Uniti avevano questa ferma intenzione di invadere l'Afghanistan. Allora, perché gli Stati Uniti volevano invadere l'Afghanistan? Quindi non per l'11 settembre, che non c'entra assolutamente nulla, è stata chiaramente una scusa. Volevano invaderlo principalmente per due motivi. Il primo era che è una questione di rifornimento, approvvigionamento energetico. Una delle zone più ricche del mondo, di gas soprattutto, anche di petrolio, ma soprattutto di gas, è l'Asia centrale, che una volta apparteneva all'Unione Sovietica, ed è, diciamo, sotto la sfera di influenza della Russia. Lo era almeno negli anni 90. Gli Stati Uniti, che non hanno mai rinunciato, nonostante finire la guerra fredda, a mettere all'angolo la Russia e a prendersi le sue risorse in qualche modo, avevano bisogno di trovare un corridoio per far uscire quel gas. Da una parte c'era la Russia vera e propria, dall'altra c'erano dei paesi del Caucaso, che non erano esattamente molto stabili, e poi erano anche in qualche modo alleati della Russia. Sud c'è l'Iran, a est la Cina, insomma, rimaneva solamente l'Afghanistan come possibile corridoio per far entrare questi gasdotti in Pakistan e poi da lì imbarcare il gas. Allora, questo, diciamo, era uno dei motivi. E nemmeno tanto secondario, perché poi quando gli Stati Uniti, effettivamente, quando la Nato invade l'Afghanistan e occupa Kabul, non è che vengono fatte le elezioni, viene presa una persona e viene messa a presidente. Un strano modo di intendere di esportare la democrazia tra le varie cose. E l'uomo scelto come presidente è un afgano che in realtà dell'Afghanistan non sa quasi nulla, come se uno facesse, diciamo, mettesse come presidente del Consiglio in Italia un immigrato in Australia che è immigrato da piccolo e non conosce, a malapena, a stento, parla italiano. Insomma, immaginate una situazione del genere. E quest'uomo in realtà è un dirigente di una società petrolifera che si chiama UNOCAL che è la società che doveva poi costruire i gasdotti. Quindi gli stavamo messo il dirigente, la società che dovrebbe fare i gasdotti, gli stavamo messo al comando del paese. Tanto per dare un'idea dell'importanza che aveva questa cosa. Poi c'era anche un secondo motivo, un secondo motivo che è un motivo molto differente, ovvero la necessità da parte delle case farmaceutiche di approvvigionarsi di oppio. Perché l'oppio, è vero che con l'oppio si fa l'eroina e una serie di altre droghe, ma l'oppio è alla base di una buona parte delle medicine che noi usiamo quotidianamente e che vengono usate soprattutto negli ospedali, per esempio gli antidolorifici, ma anche nelle medicine che combattono la tosse o tante altre cose. Il 40% delle 100 medicine più vendute al mondo sono a base che piace. Un giro d'affari oggi di superiore ai 200 miliardi di dollari l'anno, molto più dei vaccini, tanto per dare un'idea della cosa, dei vaccini questi del Covid. E quest'oppio in qualche modo doveva essere non solo coltivato, e non era più coltivato, quindi bisognava far ripartire la coltivazione, ma bisognava trovare il modo di farlo arrivare alle case farmaceutiche. Tutto questo è stato coperto in qualche modo dall'11 settembre, peraltro raccontando la balla più grossa di tutte, ovvero che i campi addestranti dell'Al Qaeda si trovavano in Afghanistan. Non è vero. Infatti la domanda che ti volevo fare è che rapporti c'erano tra i talebani e i rappresentanti di Al Qaeda? Allora, ovviamente esistono dei rapporti, sempre fondamentalisti islamici sono, sono di stampo saudite entrambi, perché i talebani non sono afghani, i talebani sono pakistani o al tutto al più figli di immigrati afghani in Pakistan, addestrati, anzi indottrinati dai sauditi, esattamente come Al Qaeda. Insomma, è lo stesso, è il wahhabismo, è una forma estrema di islam, che non ha a che fare con il resto dell'islam, quindi hanno, diciamo, delle vicinanze dal punto di vista religioso, di intendere la società e cose di questo genere. Dopodiché tutti, ma proprio tutti, gli attentatori dell'11 settembre sono stati addestrati, non in Afghanistan, ma in Bosnia e Herzegovina, quindi a due passi da noi. Teoricamente, e sarebbe stato sbagliato comunque, noi avremmo dovuto dichiarare guerra alla Bosnia, non guerra all'Afghanistan, però in Bosnia non si coltiva oppio e non ci sono, diciamo, non è attraversata da gasdotti, non c'è questa necessità, poi sta in piena Europa, non potevano scatenare una guerra ovviamente alla Bosnia. C'era già stata poi qualche anno prima. Esattamente. Quindi tu stai dicendo che era una bugia il fatto che ci fossero questi legami così causali tra talebani e terroristi di Al-Qaeda in relazione all'11 settembre. e quello che possiamo dire anche è che governavano i talebani in Afghanistan da qualche anno e che avevano interrotto le coltivazioni del papavero. e probabilmente questa è stata una delle cause per cui tutta una serie di agenti internazionali come le case di farmaceutiche ma anche il narcotraffico ne sentiva la mancanza. Sì, allora, la cosa curiosa dei talebani, questo fa anche capire lo strano rapporto che c'è, anche che cosa sono i talebani, cercando di capire anche che cosa sono oggi, perché i talebani hanno rioccupato il paese un'altra volta. Allora, i talebani, io, indagando sull'11 settembre, una delle cose in cui sono entrato in possesso e ho ricostruito nel dettaglio, è il passaggio di denaro, cioè come stavo finanziato l'11 settembre, cioè poi ho entrato in possesso dei bonifici bancari, delle assegne, tutte queste cose qui, quindi sono i nomi delle persone, non ci si può sbagliare in quello. Allora, insieme al finanziamento dell'11 settembre, che è venuto dall'Arabia Saudita, cioè l'11 settembre è stato finanziato dallo Stato, non da una persona, non da una Bin Laden, dallo Stato dell'Arabia Saudita, è stato un delitto di Stato, almeno dal punto di vista del denaro. Questa massa di denaro per finanziare l'11 settembre era messa insieme a altri soldi, tutti insieme hanno viaggiato e sono finiti tutti quanti attraverso una serie, un giro, una vera e propria peripezie attraverso quel mondo, a Houston, in Texas, dove c'è la sede, è la capitale mondiale dell'energia, dove c'è la sede di una multinazionale molto vicina all'amministrazione Bush e da cui sono venuti dirigenti quella multinazionale, molti di questi sono diventati ministri di quell'amministrazione, cioè di quella che dichiarata poi quella l'Afghanistan. Allora, questa società che si chiamava Enron, perché poi è fallita, è la società che ha gestito questo denaro, cioè in parte l'ha dato, ha avuto la gestione finale, in parte l'ha dato ai dirottatori e a tutta l'organizzazione per l'11 settembre e in parte una grande parte, sto parlando di quasi 10 miliardi di dollari, l'ha dato ai talebani nel 1996, per finanziare l'invasione dei talebani dell'Afghanistan. Quindi, allora, ricapitolando, gli Stati Uniti con l'aiuto dell'Arabia Saudita hanno finanziato l'invasione dell'Afghanistan da parte dei talebani nel 1996, per poi non riconoscere il governo talebano, tra le varie cose, perché il governo talebano non era riconosciuto dagli Stati Uniti, e al tempo stesso, nonostante il governo talebano non fosse riconosciuto, i talebani avevano una lobby, una loro personale lobby, al congresso degli Stati Uniti, che già è un'altra cosa bizzarra, insomma, un'altra contraddizione in queste cose qui. E la cosa più assurda è che questa lobby, ufficialmente registrata, aveva come direttrice la nipote del capo della CIA. Quindi dall'idea di che cosa erano i talebani, alla fine, insomma, non è che erano degli esaltati, ma non è che erano usciti fuori dal nulla, insomma, se erano stati paracutati da Marte, erano persone che erano state foraggiate, spinte dagli americani. Quindi i talebani invadono l'Afghanistan per conto degli americani, poi evidentemente le cose non vanno come devono andare, perché c'erano, c'erano proprio questa, diciamo, delle trattative in corso, anche attraverso questa lobby, tra gli Stati Uniti e i talebani. A un certo punto, nell'estate del 2001, quindi prima dell'11 settembre, le trattative saltano e i talebani capiscono che a quel punto è pronta l'invasione. Dopo viene l'11 settembre. Sì, e quindi avviene questa invasione, i primi a fare questa invasione sono ovviamente gli americani e dopo qualche anno, dopo poco, li segue la Nato. Entrambi con delle procedure di invasione non consone al diritto internazionale, quindi entrambi trovano un modo di andare, nessuno si oppone e cominciano a gestire il territorio. Come avviene questa gestione dell'Afghanistan? Allora, l'Afghanistan, visto che gli Stati Uniti avevano messo su una sorta di coalizione in cui hanno coinvolto la Nato, perché poi sarà il Nato a gestire la guerra afghana, e gli Stati Uniti, diciamo, dividono il territorio afghano in zone di influenza e li affidano a dei paesi, paesi che sono strategici per gli Stati Uniti nella gestione di questa cosa qui, che sono, oltre gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, la Germania, la Spagna e l'Italia. Allora, le zone più sfigate dell'Afghanistan vengono da degli altri. Le zone, quelle appetibili, ovvero dove si coltiva il papavero, che sono quelle che fanno la differenza, vengono spartite tra Stati Uniti e Regno Unito. In quel momento, quando gli Stati Uniti arrivano, arriva la Nato, in Afghanistan non si coltiva più il papavero, è stata completamente eradicata la coltivazione del papavero, quindi niente oppio. Dal mese successivo all'invasione, la coltivazione di oppio riprende, e riprende sempre in maniera più massiccia, se uno vede il grafico, il grafico fa così, va su verticalmente quasi. Nel giro di un anno si era già superata la produzione precedente all'invasione dei talebani, e nel giro di pochissimi anni il 95% di tutto l'oppio coltivato nel mondo viene coltivato in Afghanistan, e anche l'ashish, anche la gran parte di hashish coltivata nel mondo viene coltivata in Afghanistan. Da lì questa coltivazione avviene sotto la supervisione delle truppe britanniche e statunitensi. Dove sono loro c'è l'oppio, e dove c'è l'oppio arrivano una serie di personaggi, insomma lì incomincia un'altra storia che non ci hanno mai raccontato, questo è il problema. Infatti nel libro che si intitola Missione Oppio, voi raccontate, tu e Giorgia Pietropaoli raccontate, intervistate un militare italiano, che rimane anonimo, che racconta in maniera assolutamente chiara il fatto che tutti sanno che i due motivi principali per cui si trovano lì, e questo lo dice lui, sono parole sue, sono quelle di far sì che riprenda la produzione di oppio e che gli afghani si convincano a vendere l'oppio all'occidente. Quindi è estremamente palese in questa intervista che avete fatto. Nel libro si racconta di un carabiniere che indaga su queste cose, perché lui si indaga sui traffici di droga internazionali, quindi a un certo punto vince in Afghanistan, viene da lì la droga, e si rende conto, perché lui va in Afghanistan, si rende conto che in Afghanistan la droga viene gestita dalla Nato, cioè è non solo la parte che finisce le case farmaceutiche, i generali della Nato invece di preoccuparsi della guerra o tutt'al più di gestire il passaggio verso la democrazia dell'Afghanistan, si preoccupano di fare da mediatori tra i capi villaggio che producono oppio e le case farmaceutiche, quindi già una cosa assurda di per sé. Ma la Nato si impegna in prima persona per tirar fuori l'oppio dell'Afghanistan, perché l'oppio dell'Afghanistan in qualche modo deve uscire. La direzione è quella dell'Europa, perché poi dall'Europa va in giro per il resto del mondo, sia quello per le case farmaceutiche che quello per la criminalità organizzata. Per arrivare in Europa non ci arriva normalmente, perché l'unico modo per farla arrivare è via aerea, e dall'Afghanistan via aerei non si alzano se non hanno l'autorizzazione della Nato, cioè non è che uno arriva con l'aereo e si porta via, poi non poco oppio, carichi giganteschi di oppio, e quindi quando il carabiniere va a indagare scopre che l'oppio viene caricato direttamente sui voli della Nato, cioè è la Nato a fare, la Nato è diventata il più grande trafficante di oppio del pianeta. Questo è. L'oppio veniva portato in Kosovo, cioè dove c'è la più grande base Nato del mondo, base statunitense anzi del mondo, e poi da lì prendeva due direzioni, uno le case farmaceutiche, l'altra direzione è l'andrangheta, che veniva proprio consegnato direttamente all'andrangheta, poi da lì le ruine e tutto quanto il resto. E questa è la folia, questo carabiniere peraltro muore e suicida in Afghanistan, cioè uno va in Afghanistan per indagare e si suicida lì, che è veramente una cosa, non so, sono queste cose veramente strane che in realtà la risposta c'è, però insomma, ufficialmente questi strani suicidi. Sì, tra l'altro nel vostro libro, il vostro libro è costellato di questi personaggi strani che popolano questi stati in guerra, quindi ci sono i contractors, cioè tutti questi occidentali che si incontrano in Afghanistan di cui voi raccontate, sembrano appunto questi che trovano le tracce di andrangheta fino in Afghanistan, i contractors, gente che fa finta di aprire dighe o di dover fare miniere, ma in realtà sono tutte coperture, quindi questo è impressionante, vedere questa umanità che si agita. La guerra è così, non c'è niente con l'Afghanistan, ma quando in Afghanistan lo incontrate, quando sono in Afghanistan personaggi in generale lo incontrate tanti, ma io mi ricordo quando andai in Iraq, a Baghdad, alloggiavi un albergo che non era quello del giornalista, era un altro albergo, un albergo di 6-7 piani, era pieno, ma pieno comunque, cioè tutte le stanze tranne la mia erano occupate da predicatori evangelici, a Baghdad, a Baghdad, che è una cosa, uno nemmeno se l'immagina l'umanità che accorre quando c'è una guerra, è un mondo parallelo, bisogna sempre fare un film, escono tanti film di guerra che non raccontano le cose, raccontano il nostro immaginario per quanto riguarda la guerra, ma se raccontassero cosa accade realmente in questi posti, sarebbero dei film straordinari, metterebbero in una curiosità assurda, perché è quasi un mondo delle favole, ci sono personaggi improbabili che girano in quei luoghi. E questi predicatori evangelici? Questi predicatori evangelici giravano l'Iraq per cercare di portare Cristo tra gli islamici, tra le cose. Apparentemente? Diciamo che alcuni sembravano gente, non parlavano d'altro che di Gesù, non lo so, erano veramente molto insistenti come persone, la parola Dio e Cristo ricorreva in tutti i loro dialoghi. E poi c'erano altri che erano personaggi invece, non saprei, usciti da qualche libro di spionaggio, di Forsyth o che so io, insomma, veramente c'erano personaggi strani. E in Afghanistan era la stessa cosa, perché in Afghanistan c'erano due guerre parallele, una che si combatteva teoricamente contro, nemmeno più contro i talebani che erano stati cacciati via, non c'erano più in Afghanistan, però c'erano tutte le varie etnie, tribù, è un paese feudale, che non accettavano la presenza degli stranieri, quindi continuavano a combattere, foraggiati ovviamente in qualche modo dai talebani dall'esterno. E poi c'era un'altra guerra, che è una guerra che accadeva tra i vari paesi che erano alleati tra di loro. E questa è la cosa forse più strana di tutte. L'Afghanistan ha invaso da una settantina di paesi, adesso non so che dire, comunque molte decine di paesi hanno invaso l'Afghanistan e avevano la loro presenza armata. Bene, questi paesi che erano teoricamente alleati, in realtà non tutti, ma molti tra di loro si combattevano. E si combattevano in Afghanistan stesso, attraverso capi tribù locale, attraverso signori della guerra che controllavano zone di Afghanistan. E lo potevano fare perché c'erano questi strani personaggi che si aggiravano per l'Afghanistan, che contrattavano, pagavano questi capi tribù per sparare addosso, per compiere attentati contro i loro alleati. Quindi tu stai parlando di quella che voi chiamate la guerra per procura, quella che si chiama la guerra per procura. E tra chi e chi si svolgeva? Allora, una delle cose che ho constatato, perché quando sono andato lì, era il periodo in cui c'erano più attentati, che erano in continuazione, c'erano due o tre attentati a settimana, tutti ovviamente attribuiti ad arebbani. Io in giro cercai di capire effettivamente ma contro che cosa, cioè qual era l'oggetto dell'attentato. Ho scoperto che gli attentati erano una sorta di attentato e poi ritorzione di un attentato tra paesi in qualche modo concorrenti. Allora, per esempio l'India e Pakistan sono fatti la guerra quando esiste il Pakistan, ci sono state ben tre guerre vere e guerreggiate tra l'India e Pakistan. Nel 99, anzi nel 2001, le guerre sono finite, non ci sono state più guerre, perché semplicemente hanno continuato a combattersi in Afghanistan. Quindi c'erano le truppe indiane, c'erano le truppe pakistane, i pakistani, i servizi pakistani attraverso questi strani personaggi finanziavano dei commando afghani che facevano attentati o sparavano addosso agli indiani, la stessa cosa facevano gli indiani con i pakistani. Ciascuno di due voleva sostanzialmente scacciare via l'altro dall'Afghanistan per metterci il piede. L'India avrebbe stretto in una morsa il Pakistan, il Pakistan avrebbe impedito questa cosa e comunque fare un dispetto agli indiani a andare sempre bene. E così via, c'erano un sacco di paesi che si combattevano tra di loro. La cosa più assurda è che si sono combattuti ferocemente Stati Uniti e Regno Unito. Tra di loro. I più grandi alleati del mondo, sempre stati legatissimi, non fosse altro per il passato coloniale, insomma, perché entrambi controllavano la zona dei papaveri. E quindi ciascuno faceva lo sgambetto all'altro sul controllo sulla produzione, magari sull'allargamento delle zone di influenza. E quindi gli americani pagavano gruppi di fuoco per sparare contro i britannici o fare gli attentati. E la stessa cosa facevano i britannici con gli statunitensi. Credo che più della metà dei soldati morti in Afghanistan, in questi venti anni, di questi due paesi, siano stati per colpa dell'alleato. In qualche modo, a questa cosa qui, riportandosi, diciamo, alle case farmaceutiche, perché poi è l'oppio, andava alle case farmaceutiche, e mi ha ricordato molto la lotta senza quartiere che si è sviluppata nell'ultimo anno e mezzo, tra Moderna e Pfizer da una parte e AstraZeneca dall'altra. Statiunitensi l'una e Britannica l'altra, in cui sono fatti di tutto, perché è evidente che tutte le notizie sui morti di AstraZeneca sono state foraggiate da quelle altre due, che in realtà ci sono stati più morti con Moderna che con AstraZeneca, ma non ha importanza. La guerra della comunicazione è stata ferocissima, ferocissima, anche all'interno dell'EMA, dell'ente regolatore per le medicine, per i vaccini, europeo. Insomma, lo stesso tipo di scontro, però questa volta bellico, non uno scontro semplicemente di carte bollate e di media, c'è stato in Afghanistan. Certo, capisco. Quindi stai dicendo che le notizie che circolano adesso su Moderna in Giappone sono foraggiate da AstraZeneca. Sto dicendo che i morti, quando ci sono dei vaccini di mezzo, ci sono sempre dei morti o delle persone che... diciamo, rientra nella statistica. Solo che una cosa è una statistica, quindi c'è lo 0,X. Una cosa è la notizia della persona che muore. La 0,X su milioni, decine di milioni, centinaia di milioni di vaccinati, può voler dire mille, duemila persone. Allora, immaginate, duemila persone e ogni persona che muore viene data notizia, quindi finisce sui giornali. Quindi tutti i giorni c'è qualcuno che muore a casa di un tipo di vaccino. Diventa una campagna, una vera campagna terroristica, al di là che possono avere ragione, che magari quel vaccino non funziona o uccide le persone, ma dal punto di vista della concorrenza tu distruggi ovviamente la casa farmaceutica concorrente. La distruggi mediaticamente e quindi sì, le case farmaceutiche fanno questo. Cioè io non ci credo, non esiste che queste notizie qui escono fuori così innocentemente, perché di morti ce ne sono sempre, tutti i giorni. È solo decidere cosa raccontare, quando raccontarlo e come raccontarlo. Punto. Ma quindi se gli introiti per le medicine sono così alti a favore delle case farmaceutiche, ora che gli americani se ne sono andati, le case farmaceutiche tratteranno direttamente con i talebani? No, l'accordo è stato già fatto. Prima c'era Bush, gli ha fatto la guerra, poi è arrivato Obama, ci ritiriamo l'Afghanistan. Non è vero per niente, Obama non ha fatto quasi nulla di quello che aveva dichiarato all'inizio, che ha strombazzato ai 420. Arriva Trump, Trump riconosce, cioè Trump fa una mossa strana, insomma una mossa apparentemente fuori dagli schemi, perché è il primo presidente degli Stati Uniti che riconosce ufficialmente come Stato i talebani, come interlocatori. Fino a quel momento, anche quando governavano l'Afghanistan alla fine degli anni 90, non erano riconosciuti. Quindi lui riconosce i talebani e dice adesso noi ci sediamo intorno al tavolo e ci mettiamo d'accordo per quel che accadrà. Apre una trattativa, questa trattativa viene aperta due anni fa. I talebani in quel momento non contavano nulla, i talebani stavano in Pakistan, non controllavano l'Afghanistan, non centravano nulla con l'Afghanistan. Lui decide di affidare i talebani, perché evidentemente c'è un vecchio legame tra gli americani e i talebani e diventano l'uomo di Washington a Kabul, cioè gli uomini di Washington a Kabul, questo diventano. Loro dice, sostanzialmente l'accordo è stato, noi vi lasciamo, vi facciamo conquistare, perché ripeto, i talebani sono invasori stranieri, esattamente come lo siamo stati noi. Noi vi lasciamo occupare l'Afghanistan, ve lo consegniamo, ve lo consegniamo letteralmente, in cambio voi ci garantite tutto quello che noi abbiamo fatto fino adesso, quindi tutti gli affari, qualsiasi cosa noi abbiamo fatto, voi ce lo garantite. Molto semplice, è convenuto a entrambi, gli uni sono presi un paese senza sparare un colpo, così, consegnato e nessuno gli romperà più le scatole, gli altri non hanno più spese, non devono più giustificare morti, attentati e cose varie, anzi si lasciano il terrorismo di Al Qaeda, perché poi Bin Laden è morto, quindi diciamo non c'era nemmeno più la spinta d'inerzia della lotta al terrorismo, l'Afghanistan è diventato semplicemente un buco nero, quindi facciamo pure bella figura, no? Siamo i buoni, noi continuiamo a essere buoni, anzi siamo ritirati, siamo pacifisti e quant'altro. Quello che non aveva previsto Biden, queste rettative le ha fatte Trump, poi Biden non ha disconosciuto queste rettative, gli andava benissimo quello che era successo. Quello che non aveva previsto era una sola cosa, che in realtà sarebbe stata prevedibile, però è stato qualcosa di totalmente estemporaneo, ovvero l'assalto degli afghani, dei cittadini afghani all'aeroporto di Kabul, e non solo l'entrata nell'aeroporto di Kabul, ma proprio l'assalto agli aerei, insomma, disperato agli aerei, agli elicotteri, le persone salivano sugli aerei e che sono lasciate cadere, cioè non si lasciate, alla fine sono cadute alle ali degli aerei, mentre gli aerei decollavano. Questa cosa qui è stata una cosa devastante, è stata la vera sconfitta agli Stati Uniti, loro avevano, per loro andava tutto bene, questa cosa invece non era assolutamente prevista. Perché? Perché ricordava due cose, l'assalto in quella maniera lì degli aerei e l'elicotteri ricordava il Vietnam, e quindi qualcosa che negli Stati Uniti non deve essere ricordato, ad essere cancellato, la fuga da Saigon del 75, che era il 25 aprile del 75, non vorrei sbagliarmi. L'altra invece, la caduta delle persone, ricorda, la gente si lanciava delle torri, e quindi per l'opinione pubblica statunitense è stato un impatto spaventoso. Bush, scusate, non Bush, Biden, probabilmente si è giocato alla rielezione con questa cosa qui, cioè è qualcosa di mostruoso, che non doveva accadere, la devono gestire in qualche modo, come hanno gestito tutto quanto il resto, poi loro sono bravi a gestire queste cose. Quindi riassumendo un po' tutte le cose che abbiamo detto fino adesso, tutte le motivazioni in campo per questa guerra ventennale sono stati appunto la posizione geografica, occupare questa casella, il gas, l'oppio, quindi tutta la questione sulle donne, la condizione femminile in Afghanistan sembra molto lontano da tutti questi interessi. Tu hai girato in questo documentario che si chiama Blue Ghost, alcune parti rispetto alle donne e proviamo a vedere un pezzettino di questo. Questo è il documento per la polizia. Ci chiedono delle informazioni riguardo la paziente che abbiamo da poco ricoverato. Circa il 40% del corpo è ostionato. La paziente ha 35 anni. Ma abbiamo il sospetto che si tratti di un caso di autoimmolazione. Io annoto la percentuale dell'ustione, il nome del paziente e alleggo un documento. riscontriamo molti casi di autoimmolazione. Si tratta di pazienti che si danno fuoco. Purtroppo il 99% di questi pazienti è composto da giovani donne. che ti è successo? Che ti è successo? Mio marito mi picchia spesso ogni volta che litighiamo. chi è stato? Mio marito. Chi? Mio marito. Ecco, io devo dire che questo fatto del darsi fuoco non lo conoscevo, non lo conoscevo, non sapevo che fosse una pratica così diffusa e tutti sapevano che le donne afghane sono considerate meno di un animale, quindi vengono uccise, vengono maltrattate. Ma questa forma di ribellione auto inflitta, in questo modo è impressionante, veramente terribile. quindi non sapevo che avvenisse in questo modo e se vuoi dirci se quando tu sei stato là e hai girato queste immagini un pochino la situazione migliorava o no? Allora, il fatto che negli ospedali di Kabul e Herat, per esempio, ci fosse un terzo di ciascuno dei vari ospedali occupato da donne che siano date fuoco, già dall'idea della situazione, vuol dire che non è che le cose fossero tanto cambiate, perché le donne si davano fuoco semplicemente per, non solo per protesta, ma per dire io esisto. L'unico modo per affermare è la propria esistenza. E questo accadeva nell'Afghanistan dell'Occidente, cioè nell'Afghanistan gestito da coloro che erano andati lì per liberare le donne. una delle missioni, cioè Barbara Bush, la consorte di George Bush, no, Barbara è la madre, mi pare. Lora Bush. Che fece un discorso a ottobre del 2001 in cui affermava questa cosa. Noi stiamo lì per portare la democrazia e per salvare le donne, per liberarle. Ci fu una campagna di stampa gigantesca su questo punto qui. Delle cose effettivamente ci sono state, perché non è che non è accaduto nulla, abbiamo speso, solo l'Italia spendeva 300 milioni l'anno per questo scopo qui. Quindi, alla fine, quando arrivano tanti soldi, qualcosa fai. Per esempio, all'Università di Kabul c'erano migliaia e migliaia di studenti che frequentavano l'università. La maggior parte di questi erano donne, erano ragazze. Per esempio, a Herat era stata aperta una radio di sole donne che denunciavano gli abusi dei maschi. Quindi, una serie di cose sono accadute, effettivamente. Il prefetto di Herat era una donna. Però, sono tutte cose che in realtà sono molto, non solo nelle città, ma molto di superficie, nel senso che la massa dei 38 milioni di afghani è rimasta esattamente come era prima. Perché non è una questione di religione, è una questione di tradizione. Noi spesso scambiamo la religione con la tradizione. In Afghanistan, il burqa non viene portato per questioni islamiche. Il burqa viene portato perché così si porta, non so, dalla notte dei tempi. Potevano pure essere cristiani, ebrei o animisti. Sempre il burqa portavano. Queste cose qui non sono cambiate. Non sono cambiate perché l'Occidente, la Nato, controllava al massimo il 20% del territorio afgano. Non di più. Quindi le principali città e le principali vite di comunicazione. Punto. Tutto il resto dell'Afghanistan non era controllato da noi. Cioè, noi, in realtà, non abbiamo abbandonato un paese in toto. Abbiamo abbandonato una piccola fetta di paese. Il resto era già in mano altri. E, ovviamente, dove non c'erano gli occidentali, buio assoluto. Cioè, era tutto rimasto esattamente come sotto i talebani, né più né meno. Dove c'erano gli occidentali, in alcuni casi, specialmente nei quartieri più abbienti, la borghesia, perché comunque esisteva una borghesia anche in Afghanistan, c'è stato un lavoro minimo di emancipazione delle donne. Per esempio, i nostri due documentari, sia Afghanistan che Blue Ghost, sono stati girati in Afghanistan da una ragazza afghana, una cameraman. La cui sorella faceva la regista, che ha fatto anche film che sono andati in giro per il mondo, per i festival. Ma era una famiglia particolare, no? E questi casi sono, appunto, sono dei casi. Trovare, per la strada di Kabul o di Herat, che erano le due città più avanzate dal punto di vista culturale, incontrare donne che giravano col burka era una cosa abbastanza frequente, insomma, non dico una donna su due, ma insomma erano tante le donne che giravano col burka. Quindi in realtà non è stato fatto tutto questo lavoro, ci si è concentrati soprattutto sulla gestione del governo, perché essendo stato messo un incapace corrotto, che era quello dove a gestire il gasdotto, no? Abbiamo detto Karzai e questo presidente per quasi vent'anni ha governato, quindi ha reso ingestibile il paese e quindi bisognava foraggiare il presidente perché corrompesse tutti e tutti stavano buoni, cioè molti dei soldi sono finiti così poi alla fine. E stava fatto veramente poco altro, quindi io credo che l'arrivo dei talebani adesso, ovviamente specialmente nella città, cambia molto, ma non cambia solo per le donne, cambia in generale, no? E dopodiché per la maggior parte delle donne non cambierà molto, perché non era cambiato nemmeno nei vent'anni di occupazione. E quindi questa pratica di darsi fuoco è una pratica che c'è sempre stata? Sì, la pratica c'è sempre stata e che non è mai diminuita, perché semplicemente le donne hanno sempre, sempre fantasmi sono rimaste. E da prima dicevi di Karzai che aveva un fratello e che lavoro faceva il fratello di Karzai? Un narcotrafficante. Ecco. Ci puoi un po' delineare le tracce di questi rapporti di narcotraffico tra questi personaggi e le varie mafie? E più che farei mafie ce n'è una che poi ha prevalso su tutte le altre, che è l'Andrangheta. L'Andrangheta è diventata potente tra i fini anni 80 e soprattutto primi anni 90. in qualche modo la guerra iugoslava. Le guerre iugoslave le hanno fatte diventare la mafia più potente del mondo. E ha mantenuto questa cosa, anzi ha aumentato il suo potere grazie alla guerra in Afghanistan. Perché ha gestito il monopolio assoluto dell'oppio. Quindi della ruina, dell'oppio e dell'hashish. Quindi tutte le droghe che derivano da questo. E gli ha dato una forza tale per cui ha preso il sopravvento perfino sulle mafie colombiane per quanto riguarda la cocaina. Cioè perfino la cocaina non usciva dalla Colombia senza l'assenso dell'Andrangheta. E l'Andrangheta ha stretto questo appunto tra la fine degli anni 80 e inizio anni 90, ha stretto un patto di ferro con gli Stati Uniti d'America. Molto semplicemente. E quindi di riflesso anche con la Nato. E questo gli ha permesso di avere il sopravvento su tutte quante le altre mafie. Perché tu sei, come dire, un raccomandato. Sei avvantaggiato rispetto agli altri. Gli altri avevano potuto sgobbare ma l'Andrangheta aveva il tappeto rosso e poteva entrare ovunque volesse. E com'è fatto a farti raccomandare? E' una storia un po' lunga. Diciamo che, mettiamola così, la fine della Guerra Fredda ha segnato un punto di svolta per la storia mondiale, ovviamente, perché è rimasta una sola potenza in campo. Una sola potenza in campo non poteva rimanere, perché un protagonista senza l'antagonista non funziona. Serviva un antagonista e questo antagonista era il terrorismo internazionale. Che non esisteva. Il terrorismo islamico non esisteva. Per creare il terrorismo islamico è stata, io lo sto facendo molto breve, in realtà quello che vi racconto, perché ci farò un libro, ho valanghe di prove e testimonianze, quindi se volete posso entrare in dettagli, ma parlo per le prossime tre ore. Per far sì che il terrorismo islamico prendesse forma e crescesse, diventasse realmente pericoloso, è stata scatenata una guerra, le guerre igoslave. E per alimentare quella guerra l'andrangheta era l'elemento fondamentale, perché bisognava, cioè una guerra va avanti se le truppe in campo ricevono armi e munizioni principalmente, oltre tutto avanti il resto. E queste cose non possono arrivare per canali ufficiali, perché è vietato vendere armi e munizioni a chi sta in guerra, devono arrivare per forza per canali non ufficiali. Essendo la Jugoslavia di fronte all'Italia, il canale migliore era quello dell'Adriatico. E quindi doveva essere la mafia italiana a gestire questi traffici illegali, per alimentare una guerra legale, una guerra vera. E l'andrangheta è il soggetto che ha gestito queste cose qui, quindi... E così si è accreditata. Si è accreditata, sì. Si è diventata, ha acquisito potere anche nei confronti di tutte le altre mafie italiane, di Cosa Nostra, della Camorra e così via. E ha prevalso sulle altre, e ha prevalso sulle altre mafie del mondo. Cioè, l'andrangheta è diventata la mafia di Stato, la mafia del, nemmeno di Stato, la mafia del sovrastato, della Nato, del, insomma, del futuro, la mafia del post-guerra fredda. E quindi ha gestito tutto questo durante questi vent'anni e, come dicevamo prima, potrà continuare a farlo indisturbata. E secondo te adesso gli americani che sono nati via dall'Afghanistan si sottrarranno, rimarranno dentro i loro confini o alcuni pensano che si spostano da una parte per andare in un'altra? Non lo saprei perché gli americani ogni tanto hanno queste pulsioni che da qualche paese devono invadere, però al di là di questa cosa qui, che veramente ci vorrebbe la palla di vetro, non lo so. Anche perché esistono, oggigiorno esistono tanti modi per imporre il proprio dominio, per fare i bulli, così come magari sono fatti in passato. E la maggior parte di questi modi sono modi assolutamente non invasivi, nel senso non devi mandare nessun esercito, non devi fare nessuna guerra, magari organizzando rivoluzioni. Le rivoluzioni sono cose democratiche, portano a democrazia, quindi sono cose buone, anzi. È meritorio di organizzare le rivoluzioni e quindi è un modo per passare anche dalla parte dei buoni ed è sicuramente efficace ed è stato applicato tantissime volte. E credo che con il ritorno di Biden, visto che Biden era vicino a questa macchina per produrre rivoluzioni, penso che magari ci sarà una specie di nuovo rinascimento democratico in tutto il mondo, con rivoluzioni qua e là, di dittatori che saltano e così via. Poi bisogna sempre capire perché saltano e che cosa accade dopo, se quella è la cosa importante. Però penso che gli Stati Uniti si dedicheranno soprattutto a questo, o magari hanno scoperto nuovi metodi per imporre le loro cose che ancora non conosciamo, chissà. E con il ritorno dei talebani in Afghanistan, anche i cinesi hanno fatto loro comparsi in Afghanistan, giusto? Sì, perché con la Nato, Cina e Russia erano tagliate fuori, ovviamente. I cinesi hanno fatto loro comparsa, al di là del fatto che la Cina confina con l'Afghanistan, quindi insomma un qualche ruolo quasi naturale ce l'abbia, no? Anche perché in questi vent'anni si è scoperto che in Afghanistan è ricchissimo di una serie di minerali. e due più, ne cito due per dare un'idea, uno è il litio, oltre il 90% delle riserve mondiali di litio si trovano nel sottosuolo afghano. E il litio quello che si fa? Il litio si fanno le batterie. Quindi immaginate i cellulari, i computer, immaginate le automobili, le elettriche, quindi l'importanza è poi avere il litio. E le altre sono dei minerali che si chiamano terre rare, che fino ad adesso sono estratti sempre dai cinesi, o nella Repubblica Democratica del Congo o nella Cina stessa, e invece pare che ci siano enormi riservi di terre rare anche in Afghanistan. Sia litio che terre rare, l'estrazione di questi minerali sono stati abbandonati dagli americani. Perché? Perché sono molto costose. Visto che le fanno i privati queste cose, i privati non hanno mai... e hanno più una funzione strategica che una funzione di guadagno effettivo. Perché sono molto costose, non è che ci guadagni tanto facendolo. Però assumi un potere gigantesco. I cinesi fin dagli anni 70 hanno puntato gran parte del loro successo nella politica estera su questo. Cioè hanno detto, noi puntiamo su questo. Quindi hanno incominciato a investire industrie minerarie che andavano a estrarre in giro per il mondo litio, terre rare e cose di questo genere. Oramai hanno prenduto il monopolio, cioè hanno tolto dagli Stati Uniti e dagli altri paesi quasi tutto. E non ci guadagnano molto, ma gestiscono alcuni materiali che sono fondamentali, senza i quali non funzionerebbe il mondo. Non ci sarebbero computer, non ci sarebbero cellulari, non ci sarebbero televisori, non ci sarebbero impianti centrali elettriche moderne, non ci sarebbero nemmeno la strumentazione per poter fare le operazioni mediche, quelle moderne, insomma quelle con laser o quelle che si fanno da remoto, tutte quante queste cose qui, tutto quello che riguarda la modernità non esisterebbe. Quindi i cinesi tengono proprio al cappio il resto del pianeta, perché loro hanno il passaporta, hanno le chiavi della porta del vivere contemporaneo. Quindi se loro dicono domani non diamo più nulla a nessuno, noi ritorniamo nell'Ottocento, così. E l'Afghanistan è ricco di queste cose, quindi i cinesi mi sono subito buttati, perché ci sono le aziende loro che sono pronte a estrarre tutto il minerale che servirà. Molto interessante. Ti ringraziamo molto di questi tuoi approfondimenti, dei tuoi lavori, vogliamo dire dei libri che tu hai qui e che sono quelli? Prendo, non so se li posso prendere. Comunque, questi sono due libri che ho fatti uscire per quest'anno il ventennale, l'11 settembre. Visto che sull'11 settembre sono vent'anni che indago, non so se sono una persona che al mondo che ha fatto indagini più approfondite, ma insomma stiamo lì. E sull'11 settembre ho fatto un film che si chiama Zero, che è proprio un'inchiesta su quello che è accaduto quel giorno, il sequel di Zero che si chiama One, che è un'inchiesta su Al-Qaeda, dove si parla ovviamente dell'11 settembre dei finanziamenti, e poi ho scritto questo libro, che si chiama Burning Down an Eleven, è il libro di come, è il racconto di come è stato organizzato l'11 settembre. È una storia ancora diversa che non è mai stata raccontata, perché si racconta sempre solo di quello che è accaduto quel giorno, e non come si è arrivati a quel giorno. È una storia che dura sei anni, perché i piani dell'11 settembre vengono scoperti ufficialmente dagli Stati Uniti, quindi l'FBI viene a conoscenza dell'esistenza dei piani dell'11 settembre nel 1995. Quindi i sei anni successivi sono stati come sventare l'11 settembre o come non farlo sventare. Questa è stata la grande lotta fratricida tra, per esempio, all'interno dell'FBI. Io racconto, ci sono delle storie incredibili, la storia di un, per esempio, di John, se posso, insomma, c'è un agente speciale dell'FBI che si chiama John O'Neill. Questo agente dell'FBI era bravissimo, ed era quello incaricato dalle indagini riguardo il terrorismo islamico. Insomma, era uno che si occupava di questo. Lui viene a sapere di questi piani e incomincia a indagare. È talmente bravo che fa carriera, lui diventa capo dell'antiterrorismo per quanto riguarda il terrorismo islamico, essendo il terrorismo islamico quello più importante di tutti, ha un peso enorme dentro l'FBI. E lui per sei anni cerca, fa di tutto per impedire questi attentati. scova tutti i vari personaggi in giro, i soldi, i finanziamenti, chi appoggiava, e cerca di arrestare queste persone, in giro per il mondo anche. E non ci riesce, perché si accorge, questo lo racconta lui, lui ha raccontato queste cose anche nei rapporti ufficiali, si accorge che i suoi colleghi dell'FBI e gli altri della CIA gli mettono in bastone tra le ruote perché non vogliono che lui sventi gli attentati. E disperata questa persona, a un certo punto, nell'estate del 2001, decide di dimettersi, dice io non ce la faccio più, basta, mi dimetto, ho fallito. Nonostante tutti gli sforzi che ho profuso, io e tanti altri bravissimi agenti, non riusciremo a fermare, sappiamo ancora esattamente dove accadrà, perché c'erano più obiettivi di quelli che poi ci sono stati effettivamente, quindi non sapevano esattamente in quali città poi sarebbe accaduto, e ancora il giorno, sapevano che sarebbe accaduto quell'anno, ma non esattamente il giorno, e dice non accadrà questa cosa e noi non possiamo fare niente più per impedirla, perché non vogliono che venga impedita. Si dimette, essendo molto bravo, viene assunto subito, e la cosa clamorosa, c'è quasi una sorta di catarsi, viene assunto dal cugino di Bush, del presidente Bush, come responsabile della sicurezza del World Trade Center a New York. Le Torre di Gemelle fanno parte del World Trade Center, e lui prende servizio l'11 settembre del 2001. Quindi prende servizio, va nel suo ufficio al 90 e passa piano della Torre Nord, l'aereo si schianta sotto il suo ufficio, e lui morirà l'11 settembre del 2001. E' una storia assurda, è una storia da film, solo che Hollywood fa i film finti e non fa... Se dovesse raccontare in un film questa cosa qui, ovviamente, diciamo, sbugiarderebbe l'intera politica americana negli ultimi vent'anni e farebbe veramente crollare il mito degli Stati Uniti, insomma. Per cui è una storia che non va raccontata, però è una storia meravigliosa, è una storia di un eroe che alla fine muore perché deve morire. E ovviamente racconto tante altre storie. Invece quest'altro libro, The ISIS Files, in qualche modo riguarda l'ISIS, però un pochettino l'11 settembre è l'anno zero del... anche se c'era anche prima, insomma, il terrorismo islamico. E quindi, visto che l'ISIS è l'organizzazione sostitutiva di Al-Qaeda, cioè quando è un giunto muore Bin Laden, o comunque si dicono che è morto Bin Laden, c'è un vuoto, quindi deve arrivare qualcosa, e allora arriva l'ISIS. E io in questo libro racconto come è nato l'ISIS. Ed è una storia, già, vi assicuro, molto, 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 molto diversa da quella che uno possa, può immaginare, insomma. Anche rocambolesca. Non ci dici neanche una cosa? Ah, se volete sì, io non so se potete. Una cosa piccola. Vi posso solo dire che la... Allora, i capi dell'ISIS, quelli che poi sarebbero diventati i capi dell'ISIS, si trovano tutti in una prigione, una prigione gestita dagli americani. E questa prigione che sta in Iraq, è invece di essere la solita prigione, no? Con tutte le sbarre di ferro e elettrono, cioè avete presente le prigioni americane che si trovano nei film? Nulla a che vedere. Dentro è una specie di Montessori, cioè ognuno fa quello che vuole. E più sei di alto di grado, più sei libero di fare quello che vuoi. E quindi loro organizzano quotidianamente riunioni tra di loro per decidere, per mettersi d'accordo. Quando poi gli americani si ritrovano dall'Iraq, prima di ritirarsi, loro decidono di liberare tutti i detenuti, non di tutte le prigioni, di quella prigione lì. E questi improvvisamente vagano liberi. però l'Isis non nasce ovviamente, cioè non è che se ci sono 20 leader nasce un'organizzazione terroristica, soprattutto uno Stato, perché l'Isis è stato uno Stato. E quindi da lì succedono una serie di cose per poter formare uno Stato, per poter formare un esercito, per poter formare un'organizzazione terroristica. Vi dico solo che alcuni di questi personaggi che stavano nella lista, perché erano in prigione per il terrorismo, negli americani, quindi stavano nella lista nera. Tutti i computer della polizia del mondo avevano i loro nomi nel computer, insomma. Quindi se uno di questi fosse venuto in Italia sarebbe stato formato alla frontiera, perché risultava un terrorista, un capo terrorista. Alcuni di questi volano tranquillamente a Londra, passano una frontiera, nessuno dice assolutamente nulla, vanno a incontrare dei dirigenti di una società di comunicazione che si chiama Purpose, dirigenti che sono veramente vicini, ma proprio quasi, non dico amici di infanzia, ma insomma molto vicini all'allora Premier Cameron, quindi Presidente, cioè Primo Ministro Britannico, persone molto vicine a lui, incontrano questi, nella City di Londra, questi capi terroristi, perché non si possono chiamare in altro modo, visto che stavano in questa lista, e sono stati fatti entrare in Inghilterra senza nessun problema, e firmano un contratto, perché da quel momento in poi la Purpose gestirà la comunicazione dell'Isis, quindi quelle, quando noi abbiamo visto le immagini di questi vestiti di arancione che camminavano e poi venivano sgozzati, oppure gli attenti, immaginate tutte queste cose molto spettacolari che ha fatto l'Isis, erano frutto di qualcuno, di un cervello comunicativo che si trova a Londra, amico del primo ministro britannico, questo è già l'idea, vorrei raccontare tante altre cose, però insomma, dall'idea di quello che poi è stato ed è l'Isis. Molto interessante, allora ne parleremo poi. Grazie di tutto, grazie di questo approfondimento, grazie di averci seguiti, vi ricordo, Oval Media, vi ricordo che se volete darci un contributo per narrative, lo potete fare al Liban che avete trovato più volte durante la trasmissione, e l'ultima cosa, volevo lasciarvi con un piccolo estratto della fine del discorso di Bush dell'invasione in Afghanistan, che probabilmente farà un'impressione un po' diversa ora che abbiamo ascoltato quest'ora. Grazie e a fra due settimane. Grazie. Grazie a voi. I'm speaking to you today from the treaty room of the White House, a place where American presidents have worked for peace. We're a peaceful nation. Yet as we have learned so suddenly and so tragically, there can be no peace in a world of sudden terror. In the face of today's new threat, the only way to pursue peace is to pursue those who threaten it. We did not ask for this mission, but we will fulfill it. Come on, go ahead. I'm speaking to you today, for today's new doubt. I'll災 solar�� oprim dum Lexus iubed sfactor aboli di which